E ora la cultura d'Aquileia nell'incantevole cornice di piazza Capitolo davanti alla Basilica. Ieri sera il concerto evento Guerra di Pace 2018 in Memoriam, iniziativa in ricordo della grande guerra. 158 ragazzi della banda giovanile regionale Anbima, i loro 12 maestri e 40 cantori del coro Sant'Ilario di Rovereto. Ha diretto il maestro Marco Somadossi. Il progetto si inserisce nel percorso culturale avviato nel 2015 per commemorare il centenario del primo conflitto mondiale. Tappa iniziale fu la toccante esibizione della formazione giovanile al Sacrario Militare di Re di Puglia.